Allora Paolo Bartolomei, sei uno dei nuovi arrivati di questa stagione allo Spezia, hai avuto già modo di metterti in mostra nelle prime due amichevoli, qual è fino adesso il giudizio che dai a questo tuo primo approccio con lo Spezia? Sicuramente sono molto contento di essere arrivato qua e subito al primo impatto ho visto che c'era un gruppo molto compatto e in questi amichevoli ho visto che c'era già una base dall'anno scorso, sicuramente stiamo lavorando molto per trovare al meglio la condizione, adesso ci sono tanti carichi di lavoro che non ci permettono di esprimerci ancora al meglio perché il ritmo è sempre un po' basso, però lavorando piano piano riusciremo a trovare al meglio la condizione. Ecco, abbiamo visto che state provando ripetutamente quelli che sono gli schemi che il mister vi fa, vi fa provare ovviamente durante il ritiro. Ma sì, sicuramente il mister ci chiede di fare queste cose, noi ovviamente in campo cerchiamo di riportarle, anche se ripeto non c'è ancora tanta lucidità perché è dovuta dai carichi di lavoro, però l'importante è già che abbiamo il concetto in testa. Ecco, tu vieni dal Cittadella che in questi anni ha fatto sicuramente benissimo, sempre play-off, una squadra molto propositiva, hai ritrovato un po' questo modo di intendere il calcio in mister Marino? Ma sicuramente sì, parlandone anche con i compagni, anche il modulo è simile a come giocavamo noi, è una squadra molto offensiva e i concetti sono simili ai due anni che ho passato a Cittadella e cerco di riportarli anche qua e dare una mano in più a questi nuovi compagni perché vogliamo partire forte, vogliamo fare qualcosa di importante. Per quanto riguarda i tuoi compagni, ti ha sorpreso qualcuno di loro? Sicuramente li conoscevo bene già da due anni che ci gioco contro e sapevo che era una squadra molto forte, che in questi due anni hanno fatto bene, anche se potevano ambire qualcosa di più importante, però la Serie B è un campionato molto difficile e speriamo che quest'anno insieme possiamo fare qualcosa di ancora più importante tutti insieme. Per quanto riguarda il tuo obiettivo, qual è? Quello di migliorarti magari nel numero di gol segnati o cosa? Il mio obiettivo è sempre di fare meglio anno dopo anno, anche se arrivo da due anni che ho fatto bene a Cittadella e arrivo qua con una grandissima voglia di fare ancora meglio di Cittadella insieme a questo gruppo che ce lo meritiamo. Ti ringrazio, grazie Paolo. Di niente, ciao.